allo ragazzi ciao nick e bentornati qua sulla nick craft ragazzi allora vi faccio vedere che notte anzi a proposito visto che è notte vi faccio vedere ragazzi a che punto è arrivato il grattacielo di nick raga che ve ne pare mi devo scusare ragazzi vi avevo detto che per guardare il grattacielo dovevamo metterci qua in realtà mi sono sbagliato per guardarlo bene dobbiamo metterci un po più lontani ecco forse ora ragazzi riusciamo a vederlo un po meglio che ve ne pare ragà ora sì che è figo e non è ancora completato ancora in altezza non è completato pensate voi ancora mancano circa un paio di piani diciamo che in numeri di lampadari lì insomma di luce ancora ne devo mettere 144 in altezza ancora 144 luci in altezza e quindi ancora ce ne vuole però come vetro ragazzi praticamente quasi finito perché la parte finale in altezza non è composta più da vetro ma è composto da da slab dai slab di pietra difatti sto cucinando ragazzi la pietra per fare poi i vari slab allora che dite volete vedere di notte che anche più bello sperando che non ci stanno mostri a rompere ma al momento non ci stanno mostri in vista meglio così ecco qua ragà avete visto che alla fine è veramente una spirale e scopi abbiamo anche detto che non è completato ovviamente continuerà ancora un po a girare quindi veramente insomma non è proprio una spirale completa perché ovviamente non si può andare oltre una certa altezza però comunque fatto veramente bene e niente quindi ancora c'è da continuare un po in altezza ma ovviamente potremmo già iniziare a pensare i vari piani ecco perché ovviamente già in altezza 30 piani sicuro sicuro ci stanno già adesso da creare ecco allora molti dove mi hanno detto nic che non fare i piani legno perché mi aveva detto che legno è brutto o perché comunque in un grattacielo di legno di te non non ci sta beh raga che vedevo dire che materiale usiamo io non lo so molti di voi dicono il marble il marble questo qua insomma però questo qui non è che se ne trova tanto ecco ne ho pochissimo non posso fare tutti i piani in marble ce ne ho poco e niente ovviamente in abbondanza abbiamo ovviamente la pietra quella classica ecco non lo so ecco io comunque a sto punto stavo pensando raga che andiamo a mettere un bel query a scavare così vediamo un po cosa riesce lui a prendere e poi magari così non so potrei fare un po in marble un po qualcos'altro ecco e quindi questa è una scelta ardua perché ovviamente si tratta di utilizzare molte 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 risorse che non è facile trovare ecco dunque andiamo qua beh io piglio il query ecco questo è quello ragazzi che mi è rimasto come vedete qui 14 lampade me ne servono ancora 130 a parte queste 14 per completare in altezza teoricamente poi dipende dipende sempre dall'altezza massima che riesco a raggiungere perché oltre non si può andare quindi diciamo che più oltre più o meno 130 lampade sicure ancora servono solo per l'esterno poi se parliamo dell'interno se vogliamo mettere sta lampada voglia comunque dunque stavo pensando il query ok mettiamo un bel query questo veramente ce n'è ancora di sta roba però a me quello che mi serve praticamente questo e poi una bella memoria eccola ce n'è ancora una vuota ok mi pare che non mi dimentico oppure vi potrei anche portare sta bella batteria è vero che non dura niente però almeno gli da un piccolo sprint iniziale allo scavo ecco e quindi ragazzi mettiamo sto query e così se riesco a beccare un bel po di marble quello che è insomma quindi dobbiamo spostare tutte sti cosi che sono rimasti qua perché ovviamente li dobbiamo usare come alimentazione ok qua va va bene ok quindi questo ragazzi è la dimensione dello scavo è abbastanza grande dove cavolo sto andando mi sto perdendo quindi devo mettere il solito query ok query messo mettiamo la batteria ora no vuoi vieni qua mettiamo lui qua dentro la memoria mettiamo questo ah no aspetta no aspetta aspetta prima devo fare una cosa importante prima ci va una cosa molto importante prima dobbiamo metterci questo altrimenti perché non voglio accumulare troppe schifezze quindi un po' di cose le buttiamo ok adesso si ora mettiamo questo qua questo va dentro fino a qua ci siamo mmm dunque avrei bisogno di terra allora vediamo un po' la parte rossa parte rossa è terra non voglio terra e non voglio la pietra quindi prendiamo un pezzo di pietra e ci mettiamo la pietra non voglio né terra né pietra via teoricamente non voglio neanche la gravel ma appena arriva sistemiamo sta cosa allora teoricamente devo fare così ho bisogno dei cavetti e allora uno due tre quattro cinque quello che è mettiamo mmm facciamo scavo 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 allora redstone 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 i motori ma che cacchio motori ok quello si deve girare ok quindi mi pare che possiamo partire fino a qua è così ok dovrebbe teoricamente ragazzi iniziare ad alimentare il tutto mentre lui comincia ad alimentare si ok mentre lui comincia a sistemare la situazione io mi vado a prendere il landmark tanto per passare un attimo il tempo prima che lui si sbriga ok ci siamo ci siamo quasi mo parte raga mo parte altri due secondi e si va ok mo rallenta ok oh oh prima andava veloce ora andava piano finalmente eccolo che parte oh ma non è un po' lento cosa fa e vai raga è partito è partito ha tutto gas perfetto raga perfetto ma io sai che ti dico sto coso lo lascio lo stesso qua boh lo lascio lo stesso ok ragazzi quindi lasciamo che il query inizia questo scavo raga lasciamo lo scavare in modo tale che speriamo che ci da un mucchio di cose belle ok così voi datemi consigli più o meno su quali materiali possiamo usare riguardo l'ascensore raga mi avete consigliato una mod ma non ho avuto ancora tempo per guardare la mod o comunque anche riguardo il command block mi avete ma avete detto però cioè io vorrei fare un qualcosa che effettivamente sposta magari dei blocchi quindi beh vedo qual è più o meno quello più bello da usare insomma cercherò di vedere qual è il sistema più carino da usare a che punto siamo con la centrale nucleare raga perché una volta che finisce la la nota che si scaricano ste cose le dobbiamo usare ha ancora voglia ancora e presto va bene allora ma che famo mo raga non ne ho la più pallida idea di cosa possiamo fare non lo so ok vai andiamo un po' nel metro raga che tanto mi servono mi serve la glove stone e nel frattempo magari meniamo un po' le mani ok qua dai che mostri non mancano mai la c'è un altro query mamma mia che prima o poi dovrei decidermi a portarmi via ho lasciato la falla muffa eccolo qua vabbè no ma il query me lo porto vai ok eh il dolly ce l'ho? no di solito me lo porto sempre stavolta e dolly non ce l'ho vabbè no no ma lo ne ho bevuto prima di venire qua vabbè comunque vediamo un po' vai andiamo raga alla ricerca pensavo ce l'avessero con me ah ecco da quella parte c'è da combattere raga andiamo per di la che vedo nella minimappa che ci sta qualcosina c'ero già passato dall'appunto qualche tempo fa sempre per via del della globstone credo era qui era da un'altra parte però poi per altri motivi non ho fatto nulla stavolta siamo qua per combattere oh mio dio però c'è la lava è molto pericolosa sai ok maiale sui no vegetale si curano sti cosi no no io non ti curi non ti curi da me ehi ocio che non voglio finire nella lava e su di un conto muori scusi scusi signora oddio bombarolo ocio è pericoloso ma che sei pazzo ma che sto pazzo eh oh ma che non credo mi è pericoloso ocio no dai l'unico cornuto che non crepa nella lava devo stare attendo e mora e vai ehi la hai che cacchio sono venuto qua per sta spazzatura io per il cibo calma uuuuuh che schifo vai vai cacchia cacchia è così senza avvisare pezzi cornuto mi fai su oddio è un maiale uuuuuh e muore aspetta ocio fatemi mangiare pure a me ah sta cosa me la posso mangiare? cos'è sta roba che non si può mangiare? via avanti biscotto ah ecco eeeh piamo i biscotti piamo sta roba che potto non mi utile povero da sparo per sparare ok oddio oddio ok dai dai mi serve vero mi serve a globstone la pigliamo avanti la globstone schifo non fa che mi serve per continuare il grattacielo ecco fatto guarda meglio di questa che almeno già cominciamo ad accumularne un po' mamma mia ho avuto paura che se c'era la lave ero spacciato ok avanti il prossimo ehi vai vi è brutto porcio è duzzo oddio arriva quello che cura avessi con il nodo ti curo io a te Wilde ehh ehh eaja te prego peccato che perdo eeeh ehh eeeeehh hehh o'oh 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 spingere che fai male ma la miseria ti fanno male la Ok Prego mi si accomodi Mi si accomodi Ma non si fa niente Ok critico Diamante Spacco tutto e entro dentro Un momento Acqua Posso bere Ah è velenosa Ah fa male Basta Acqua schifosa era Urca Che c'è Lana rossa Hai capito C'è la lana rossa Abbiamo anche la lana rossa Se uno gli serve Sa dove la trovo adesso Oh oh Viene Puccio e duccio Viene Ah tanto Lo dico io a voi A me si Sgraziato Deve morire un po' No 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 Tu non sei pure Tu no Oh Mio dio Via di qua Hai Hai Bombarolo c'è Urca Ok mi sento più sicuro Qua sopra Dai eh Lasciami in pace Bombarolo Chi è quello Robin Hood Eh ma sto saluto Prima che recupero Ah Che Eh vai via Oh eh dai Ah ma qua Siamo in campo aperto Vi spacco Prima che va Bombarolo pazzo E' andato L'altezza gli fa male Ok Oh ma sempre fame c'ho Mamma mia quanto magna sto tizio Oh no 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 raga ci stanno quelli con gli archi pericolosissimi l'arco con la lava pessima scelta no Andiamo qua Ok oppure Oddio chi è questo Mazinga No 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 me ne vado me ne vado me ne vado me ne vado Mamma mia No 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 non ci siamo Devo Devo avere la resistenza No qua mi dovrò fare la quantum suite mi pare come si chiama qui c'è bisogno veramente Qui c'è bisogno ragazzi di essere carrozzati non è che si può andare così Contro uno che c'ha 250 di vita e che spara palla di fuoco Vabbè va A proposito mi serviva la Globestone eravamo principalmente venuti qua per quella bene ho raccolto un pochettino Oddio Ci sta un altro mago qua Ah vai via brutto mago schifoso Un altro che lancia palla di fuoco me ne davano Che peccato Ero curioso di vedere cosa c'era dentro quelle ceste ma è pericolosissimo Oh papà è Globestone mi sa che l'ho raccoltato Sì vabbè l'ho raccolta Beh sì là sopra c'è ma non c'ho voglia perché ho paura di cadere nella lava Mi sa che ho raccolto tutto Oddio che cacchio è quel coso Cos'è sta roba Che cacchio è Oddio lol Gli ho dato una spinta a quel coso Vabbò Forse è meglio se ce ne torniamo indietro Ah che qua comincia a morire sete E acqua con me non ne ho E quella che ho trovato faceva pure schifo Ma diciamo la verità Guardate un po' la differenza che c'è ragazzi nella lava E' evidente che con la pompa Tra poco prosciugo il Neter Va Va finì che lo prosciugo Esaurisco la lava qui nel neter Andiamo indietro Ha comunque ho raccolto Ho raccolto un pochettino di Globestone Per continuare quantomeno Ah Boh due piani almeno riesco ancora a continuarli Ma questo sembra affamato Ok Mamma mia raga Quanto è bello il nostro grattacielo Ve l'ho fatto vedere dall'alto No Andiamo su Guardate un po' nicchia Ah mi sono dimenticato Ma non avete visto sotto Guardate quanta sabbia ho tolto Perché ovviamente la sabbia l'ho presa da qua Ho spalato un mucchio Ho tolto insomma un mucchio di montagne Di sabbia Ok raga Questo è praticamente l'ultimo piano attuale Siamo a All'altezza 225 In questo non mi sbaglio l'altezza massima è 256 Dovrebbe essere circa 256 Quindi mancano ancora circa 30 30 circa blocchi in altezza Ecco quindi beh Vedremo Sì Perché Ogni piano sono quattro blocchi Quindi ancora devo andare su di Eh A meno 7 piani Credo sì 7-8 piani Ancora in altezza Devo andare Ogni piano sono quattro blocchi Di questi qua di lampade Quindi ancora devo andare su Raga Ah da questa altezza non si vede niente Comunque c'è un piano Ragazzi che a me piace molto Perché è l'unico piano In cui i vetri Non sono messi così Diciamo In questo modo E quindi è un piano Che si vede tutto Bello dritto E quello è il piano Ragazzi In cui magari io ci voglio fare Una stanza Tutta per me Una stanza Dove praticamente Si vede tranquillamente Tutto benissimo Eccolo là Questo è il Momento Il piano È questo Questo è il piano Che interessa a me Ragazzi Qui ci voglio fare Io il mio appartamento Vedete che da qua Il vetro è tutto Dritto Quindi da qua Si può Tranquillamente Guardare Ammirare il panorama Anche se Un po' più giù È molto meglio Per ammirare il panorama Proviamo un po' Ad allungare La distanza massima Vediamo Se riesco A Oh cacchio Ecco Così teoricamente Riusciamo a vedere Un po' più in là Da questo piano Sarà bellissimo Avere qui un appartamento Ragazzi Un appartamento Al trentesimo piano Per dire Mamma mia Ragazzi Ma vediamo Comunque appena Appena si sbriga Il coso Come cacchio si chiama Il query Che abbiamo un po' di materiali Ragazzi Ditevi un po' voi Che iniziamo A Mettere i vari piani E soprattutto Devo guardare un po' Come fare Per Come fare Per Per l'ascensore Assolutamente Ci vuole Le scale Sono brutte Vabbò Raga Dai Quindi per il momento Mi fermo qui Non è stato Un gameplay Diciamo Particolare Perché Perché Insomma O diciamo Sono arrivato adesso Al punto in cui All'altezza attuale Ci sono arrivato ora Quindi Non è che avevo Molte idee Su cosa registrare Sempre della nicche Craft Soprattutto Ho bisogno Dei vostri consigli Riguardo appunto E materiali da usare Visto che A molti di voi Non piace la legna E quindi Se non piace la legna Comunque c'è pur sempre Bisogno Di altri materiali E quindi Non è detto Che sia facile Prenderli Quindi ragazzi Come vedete Qui ho svalato Un mucchio Di Di sabbia Vedete che ne manca Tantissima Di sabbia Ho praticamente Rimossa Quasi Tutta Soprattutto Qui L'ho rimossa Parecchia sabbia Lì vedete Dei blocchi volanti Perché c'era Il query Qui vedete ragazzi Che praticamente Ho rimosso Tanta di quella sabbia Ma anche qui C'era sabbia Vedete Qui sto buco Mica è fatto a caso Quindi vedete Un po' Quanta sabbia Che nicchie Ha rimosso Per Per la costruzione Di questo Grattacielo Vabbè ragazzi Quindi io vi saluto Datemi Consigli Su come possiamo Fare Per i piani E Eventualmente Per l'ascensore Ve l'ho detto Il command block Non so di preciso In cosa consiste Ma io vorrei Comunque Che fosse un qualcosa Di simile A un ascensore Comunque Vabbè Vi saluto ragazzi Ci becchiamo presto Nel prossimo Gameplay Ciao